Beppe Fiorello a tale quale show, cosa farà con Carlo Conti Beppe Fiorello a tale quale show, cosa farà con Carlo Conti Beppe Fiorello IV giurato. Qual è il programma per eccellenza del venerdì sera? Ma ovviamente tale quale show condotto da Carlo Conti. Si è arrivati, ormai, alla settima edizione e squadra che vince non si cambia Infatti tutto è rimasto identico e fedele a se stesso Giusto qualche cambiamento in giuria visto che dietro al bancone non siede più Claudio Amendola, bensì Christian De Sica che, come un figlio il prodigo, è tornato a sostare in un porto televisivo sicuro dopo le sue peregrinazioni a Strescia la notizia emmissi Italia 2017 Loretta Goggi è presente come sempre e anche Enrico Montesano è stato confermato, segno della grande fiducia che l'azienda ripone in lui, tanto che a gennaio molto probabilmente sfiderà con un suo show che è posta per tè di Maria De Filippi Come tradizione, però, nel corso delle puntate la giuria si allarga lasciando spazio a uno o due personalità del mondo dello spettacolo. Questo venerdì, come anticipato Bloggo, siederà in giuria niente meno che Beppe Fiorello, l'attore fratello del più famoso Rosario Prima che venisse annunciato Claudio Baglioni conduttore del Festival di Sanremo 2018, il suo nome è circolato in maniera insistente tanto che molti hanno iniziato a sperare che la voce di corridoio diventasse presto un dato di fatto. Beppe Fiorello quarto giudice di tale e quale show con Carlo Conti La giuria di tale e quale show condotto da Carlo Conti è composta da Loretta Goggi, Enrico Montesano e Cristian De Sica, ma nel corso delle edizioni il quarto giurato ha avuto il volto di tante personalità del mondo dello spettacolo, da Enrico Brignano a Frank Matano passando per Vincenzo Salem fino a Nicola Savino. Nella seconda puntata della settima edizione del Varietà del venerdì sera di Rai 1 ci sarà Beppe Fiorello che, appunto, ricoprirà il ruolo di quarto giurato. Lattore che ha detto no al Festival di Sanremo 2018 sarà su Rai 1 non solo per giudicare i 12 concorrenti di tale e quale show, ma anche per promuovere il film team ha visto diretto da Alessandro Pondi e prodotto anche dalla Rai. Nel cast non solo Beppe Fiorello, ma anche Pier Francesco Favino oltre a gustose apparizioni di Emma Marrone, Gigi D'Alessio, Giovanotti e tanti altri. L'appuntamento per vedere le nuove imitazioni con cui dovranno confrontarsi i concorrenti di tale e quale show, oltre alla presenza del succitato Beppe Fiorello, è per venerdì 29 settembre, alle 21.10, sempre su Rai 1. Musica